Sul caso dell'idraulico di San Clemente morto dopo aver bevuto una bibita perché molto probabilmente conteneva del liquido corrosivo, la Procura di Rimi ha aperto un fascicolo, anche se dicono dal Tribunale che non è necessario fare dell'allarmismo. Stiamo indagando per capire come l'acido sia finito nella bottiglia di aranciata. A spiegarlo il Procuratore Capo di Rimi, Paolo Giovagnoli, che ipotizza il reato di avvelenamento di sostanze alimentari in seguito all'improvviso di Stefano Madoli. I primi risultati delle analisi effettuate sulla bottiglia, dice il Procuratore della Repubblica, hanno mostrato una concentrazione di acido estremamente alta che difficilmente potrebbe arrivare da una produzione industriale. La presenza del liquido corrosivo sarebbe successiva al confezionamento della bevanda acquistata dalla moglie della vittima in un noto centro commerciale di Rimi. Il sequestro della bottiglia del lotto di produzione, prosegue Giovagnoli, è stato a scopo cautelare. Sono quasi una trentina le confezioni messe sotto sigillo e al momento non sarebbero emerse manomissioni. Il 25 aprile, nella propria abitazione, Amadori ha bevuto quanto contenuto nella bottiglia sentendosi subito male. È stato lui stesso a chiamare soccorsi dopo che dai primi sorsi ha iniziato ad avvertire un fortissimo bruciore alla gola e lungo tutto lo stomaco. Trasportato in ospedale, i medici degli infermi hanno cercato di sottoporla ad un disperato intervento chirurgico nel tentativo di salvarlo, ma in sala operatoria hanno visto che il liquido aveva corroso irreparabilmente gli organi interni.